Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV, e oggi siamo qui per un nuovo video recensione. Quest'oggi vedremo insieme le 5 energy drink che mi sono piaciute di meno, al contrario del video che ho fatto la scorsa volta, ovvero quello delle 10 energy drink che invece mi sono piaciute di più. Se non l'avete visto vi consiglio di andare a vedere, tanto lo trovate sempre nelle playlist. Quindi direi di non perderci in chiacchiere e di partire subito con la classifica, che ripeto, è puramente personale, quindi ho catalogato le bevande in base al mio parere personale. Ragazzi è stata un po' dura scegliere quale bevanda mettere al quinto posto, perché ero indeciso su tre bevande, ma alla fine ho deciso di mettere la power. Perché ho scelto questa bevanda? Perché tutto sommato, in sé per sé, non è male. Infatti questa bevanda non solo è molto rinfrescante, però dà tantissima tantissima carica, molto di più rispetto alle classiche energy drink. Basta infatti mezzo bicchiere di power, quindi 125 ml, che ti dà il quadruplo, anche il quintuplo di carica in più rispetto a una lattina intera di Red Bull. Quindi messa in confronto, immaginate voi. Infatti questa power, devo dire che appena l'ho bevuta, ma solo mezzo bicchiere neanche, davvero quella notte lì non ho dormito, perché veramente ero agitato in una maniera assurda. E devo dire, è una di quelle energy drink, anzi la prima energy drink, l'unica che ho portato sul canale, a dare così tanta energia. Diciamo che la migliore a livello di efficienza. Però appunto la motivazione che mi ha spinto a metterla in questa classifica è che a livello di gusto, a livello di sapore, è tutto al contrario rispetto ai miei gusti, a quel che piace a me. Infatti a me piacciono le bevande, se voi vedete e seguite i miei video recensioni, sapete che preferisco le bevande dal sapore intenso ma poco frizzanti. Ecco, invece la power è tutto al contrario, ha un sapore poco intenso che quasi neanche si sente e ha tantissima frizzantezza. Cioè la frizzantezza diventa il sapore della bevanda e questo a me non mi è piaciuto. Però, ripeto, per il resto non è male, il suo lavoro lo fa. Al quarto posto invece, ragazzi, ho messo la X-Ray. La X-Ray è una bevanda sicuramente molto economica, 45 ai 69 centesimi a lattina a varia seconda del supermercato. Fatto sta che comunque è una bevanda che, ok, ha il sapore classico, però io non apprezzo molto quel retrogusto un po' metallico, un po' stile liquirizia. Ecco, proprio non riesco a mandarlo giù. Quindi non è che mi ispiri molto come bevanda. Poi non è che dà tantissima carica come invece fanno altre bevande, che almeno un minimo di boost, di sprint. Diciamo che è una bevanda un po' così, un po' particolare, ecco. Non mi è piaciuta così tanto, quindi l'ho messa al quarto posto. Al terzo posto invece ho messo, ragazzi, la Leopard. La Leopard è una bevanda molto conosciuta. Viene sponsorizzata soprattutto nelle gare automobilistiche, quelle monomarca, eccetera. Quindi è una bevanda che comunque ha la sua importanza. Però devo essere sincero, a me il sapore non è che mi sia piaciuto un granché, anzi, mi è piaciuto poco o niente, perché è un mix di sapori tutto insieme. A parte che facevo fatica a riconoscere i vari gusti, i vari sapori, i vari ingredienti più che altro che la componevano. Però appunto non è il mio genere di bevanda. La cosa che mi ha stupito, devo essere sincero, è che nonostante una volta aperta la lattina, quando ho versato dentro la bevanda, sono rimasto stupito che nonostante il colore fosse uguale, identico a quello delle classiche Energy Drink che noi conosciamo, quindi quel giallognolo lì, in realtà era una bevanda dal sapore totalmente diverso. Infatti io mi aspettavo una bevanda dal sapore classico, ma in realtà era tutt'altro. Questo mi ha stupito, però quel sapore lì, ecco, in sé per sé non mi piace. Ragazzi, al secondo posto ho messo una bevanda che davvero deve stare al secondo posto, ovvero la Red Bull Sugar Free. La Red Bull Sugar Free l'ha presi nel lontano 2014, per sbaglio, e praticamente davvero mi sono pentito, perché ero al bar, ho visto che c'era questa azzurra, ho detto, va, prendiamo questa azzurra, vediamo cosa cambia. E niente, non mi è piaciuta, ma per il semplice fatto che mi seccava troppo la gola, e avevo sempre bisogno di bere, 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 quindi niente. Cioè mi faceva venire la gola secca e niente, non sopportavo quel fastidio, l'ho bevuta un po' a fatica, ecco. Diciamo che, ok, può essere una cosa da poco, però non mi è piaciuta. E poi è che il fatto che sia un po' più amara rispetto alla classica Red Bull. A me la Red Bull, quella normale, quella che tutti conosciamo, no, quella classica, mi piace così com'è. Il fatto che siano andati a togliergli lo zucchero, comunque, che è giusto, perché comunque, chi vuole una bevanda senza zucchero, è giusto che la abbia, perché, appunto, se uno vuole decurtare zuccheri, forse è meglio. Però, comunque, a me non piace, a me non piace, mi secca e manca di quella dolcezza che invece in Red Bull cerco. Infatti, bevendo altre bevande, come, che ne so, la Red Edition, la Lime Edition, cioè, tutte quelle bevande lì, un po' delle edizioni, no? Quelle lì, devo dire che in realtà mi sono piaciute, erano anche dolci. Quindi, davvero, è una cosa un pochettino differente, una sfumatura un po' diversa di Red Bull, che però a me non è piaciuta. Al primo posto, invece, non potevo non metterla. Se avete visto il video della Monster Ultra White, sicuramente avrete capito che non mi piace. Infatti, sto parlando, appunto, di questa bevanda qui, la Monster Ultra White, che non mi è piaciuta affatto. Cioè, l'ho bevuta molto tempo fa, nel lontano 2015, quindi quattro anni fa, e devo essere sincero, ai tempi mi era più ripiaciuta, me l'ero bevuta nel giro di poco tempo. Però, bevendola nuovamente, nel 2019, devo dire che non mi è piaciuta affatto. Anzi, mi ricordava lo sciroppo che bevevo quando ero bambino. Eh, ragazzi, via! Ci sono le mosche che rompono le scatole, ragazzi. Non vogliono che io faccia la classifica, vedete che cattive. Questi sono gli haters, le mosche. E praticamente, la Ultra White, veramente, non l'ho mandata giù. Cioè, a momenti non dico che vomitavo, però l'effetto era quello istintivo, perché da piccolo, quando bevevo quello sciroppo, mi era distinto, cioè, proprio vomitare, no? Però, appunto, diciamo, non ho vomitato per miracolo. Ho bevuto un po' d'acqua, alla fine tutto è passato. Però, davvero, c'ho proprio in mente quel ricordo. Non so perché così dal nulla, proprio zero. Cioè, nel senso, può sembrare strano, a molti quella bevanda può piacere come, concordo. Però, appunto, io... Proprio a me non è piaciuta, ma perché questo ricordo qua, ripeto, questa è una classifica puramente personale. Quindi, le ho catalogate in base a quello che penso io, in base a come piacciono a me quelle bevande o meno. Anche la scorsa classifica era così. Voi al primo posto potete mettere, che ne so, un'altra bevanda, mentre io, invece, la posso catalogare ultima. Cioè, dipende, appunto, da gusti e gusti. Io concludo qua questa classifica. Spero vi sia piaciuta, come sempre. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e, mi raccomando, consigliatemi altre bevande da portare qui sul canale. Io, veramente, ne sto cercando molte, ne sto trovando molte, piano piano ve le porterò qui. Noi ci becchiamo al prossimo video da Tuccio TV. Ciao! Ciao!